Bacchette pronte e cin cin da rasicin. Oggi mazzancolle croccante le mandorle. Code di mazzancolle, mandorle affettate e sbattiamo due uova. Eliminiamo il guscio e i nostri crostacei. Facciamo un'incisione sul dorso e togliamo il budello. Passiamo nell'uovo e nelle mandorle affettate. Pronti per il bagnetto nell'olio a fuoco dolce. Pochi minuti e sono pronti. Che profumino, dorati e croccanti al punto giusto. Sono deliziosi. Provateli e fatemi sapere.